Puch medico multicam realizzato in cordura milleden molto solido la croce è particolare perché viene riportata con delle strisce di tessuto questo caso non si cancellerà mai e altresì possibile rimuoverla scucendola poiché cucita in maniera superiore le cerniere lampo sono della Yikeikei di ottima qualità e dietro troviamo i classici attacchi molle da cinturone o gibernaggio o gilettati la chiusura anteriore a velcro e bottone automatico l'apertura è immediata perché tramite doppia cerniera lampo consente di aprirlo totalmente e abbiamo al suo interno troviamo varie taschine con vari attacchi per riporre i vari ausili medici sulla parte superiore abbiamo una taschina trasparente per un eventuale manualetto anche di pronto intervento poi la parte sul retro un'altra tasca con dentro dei passanti per fissare i materiali sotto al centro abbiamo un velcro mini velcro per fissare il materiale nero e sotto è presente una taschina con sempre dentro gli agganci per mettere passantini per mettere fissi materiali questa linguetta che vedete invece serve per l'apertura istantanea ossia viene occultata sotto chiudendolo normalmente poi all'occorrenza uno apre con una sola mano il kit medico è totalmente aperto e a disposizione vostro ok 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 Grazie a tutti.